Per fortuna il tempo non esiste, è una bugia, è un tentativo nostro e scemo di misurare emozioni che sono smisurate. Nel ciclismo poi il tempo esiste ancora meno, qua il motore a scoppio non l'hanno inventato mai e si tira dritti a pedalare e non esiste sul Mortirolo, il Santa Cristina, Aprica, dove Marco è diventato Marco, 28 anni fa e ancora oggi. Quel ragazzo spelacchiato che nessuno conosceva è salito sui pedali come per scattare e invece ha preso il volo. E noi, innamorati, subito, tutti, i giovani come i vecchi appassionati, quelli che erano tutto meglio una volta, i grandi campioni non esistono più. Di colpo eravamo tutti bambini intorno a questo prodigio che correndo avanti ha riportato il ciclismo indietro, all'era del mito, contro il tempo, contro il buonsenso, contro ogni regola del gruppo e della vita. Marco sale sui pedali e vola e le bandiere col teschio vorticano e cuori impazziscono da subito e fino in fondo. Questo è Marco, un attimo di meraviglia. Il brutto è che gli attimi durano un attimo, il bello è che certi attimi restano per sempre con noi, 28 anni fa e oggi, adesso, addosso. Pirata per sempre, per sempre. Pirata.